Lo sai cosa pensa davvero Mitsuri degli altri pilastri in Demon Slayer? Tengen ha un sex appeal incredibile, anche se quando parla sembra un bambino di 10 anni. Renguku invece era come un fratello maggiore e ricorda con affetto il periodo in cui si sono allenati insieme. Il carattere sofisticato e pacato di Moichiro Tokito è infine estremamente amorevole, così come Tomioka, il fatto che sia così calmo per Mitsuri è adorabile.